C'erano anche i monaci con le loro preghiere in lingua pali all'inaugurazione della mostra Magico Oriente, i viaggi di Alessandri, nella sala espositiva dell'ufficio a relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte a Torino. Un momento di misticismo per raccontare il pittore surrealista che a Giaveno, città nella quale è vissuto ed è deceduto nel 2000, ha un posto fisso nel museo che gli è stato dedicato. L'esposizione, promossa dal circolo fotografico Il Mascherone di Giaveno, propone 40 fotografie a colore bianco e nero che il pittore, fondatore del movimento artistico surrealista surfanta, ha scattato durante i suoi viaggi in India, Nepal e Tibet. Di certo non voleva essere un fotografo, ma trasse da queste fotografie il giusto materiale pittorico per poter comporre opere straordinarie. Prova ne è il tempio di Kirtipur in Nepal, che è stato trasformato dalla fantasia del pittore in una sua celebrazione ipotetica di una quinta morte. Fotografie che rappresentano scene di vita quotidiana, giovani, paesaggi, scene di povertà e poi i monaci buddhisti che hanno pervaso la sua interiorità, come traspare dalle sue opere. È stato un percorso dell'anima e in queste foto si coglie il viaggio, un pellegrinaggio dello spirito. Oggi è importante rivederlo sotto un'altra luce, un profondo conoscitore della cultura orientale ma soprattutto un grande viaggiatore dell'anima. Una mostra che ci porta in quel magico oriente nel quale Alessandri si è immerso, dal Nepal all'India e al Tibet, il paese che sognò per tutta la vita. Questo artista piemontese, giavenese, che nei suoi lunghi viaggi ha potuto studiare e portare queste culture vicino a noi. Il Piemonte da sempre è padre e madre di grandi artisti. Magico Oriente, i viaggi di Alessandri nella sede URP del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14G a Torino, resterà aperta fino al 16 ottobre. Gli orari, da lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Il venerdì dalle 9 alle 12.30.